Tutte le spese che riguardano l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle scuole sono a carico del Ministero. Il contributo volontario, da quello che sappiamo noi, serve esclusivamente per le attività didattiche extra, che non sappiamo quali siano in realtà. Sono sempre più determinati gli studenti dell'Istituto Superiore Luzzatti di Mestre nel chiedere chiarezza sul versamento del contributo volontario di 110 euro, che però volontario non è. La dirigente scolastica ha dichiarato a un quotidiano locale che queste polemiche non hanno fondamento e che se gli studenti vogliono sapere quanto si spende di luce, acqua o assicurazione è tutto in ordine, perché viene sempre presentata la rendicontazione al revisore dei conti. Ma queste spese non dovrebbero essere pagate con i soldi del contributo volontario? Parla quello che ha detto, insomma, non penso che serva aggiungere altro. Dice sempre cose che non stanno né in cielo né in terra, per poi smentirle anche nella riunione che ha fatto con noi il 16 marzo, dopo tre secondi, cioè nello stesso momento in cui dice una cosa la ricambia, quindi siamo abituati noi. Gli studenti sono determinati nel portare avanti la battaglia, anche alla luce del fatto che, sottolinea Quinta Valle, la dirigente scolastica spesso manca di rispetto, come quando parcheggia nel posto per i disabili giustificando che affretta, dice Quinta Valle. Io non credo che sia il caso di mollare, perché le cose che sono successe sono gravi. Basti pensare, non so se avete visto l'articolo sul giornale, anche dell'auto della dirigente sul parcheggio di disabili. Ora, indipendentemente dal parcheggio di disabili, però credo che sia veramente molto grave che un dirigente scolastico, che dovrebbe fare da esempio a tutti gli studenti, ma parliamo di ragazzini del diurno, si comporti in questo modo. Credo che educativamente sia una roba vergognosa. Cioè, già solo per questo, come l'ha detto il 16 marzo alla dirigente, già solo per questo lei non dovrebbe ricoprire, a mio avviso, il posto che ricopre.